Gli ha dato l'ottica, si può svegliare... Si... Gli ha dato l'ottica... Allora, ti hai detto un po' più sopra, un po' più sotto? No, 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 al centro proprio. Al centro, al centro, con il centro del reticolo. Scusa, metti un po' più a destra. Sei? Sì. Mamma mia. Mamma mia.